Ben trovati a questa edizione di TgGiorno, apriamo con una notizia arrivata in queste ore in redazione. Le fiamme gialle di Lucca hanno denunciato tre persone per truffa allo Stato, frode fiscale e bancarotta fraudolenta. La società lucchese di costruzione, di cui erano stati legali i rappresentanti, non versava l'IVA ed emetteva fatture false per maturare crediti da centinaia di migliaia di euro con il bonus facciate. Nel corso delle indagini sull'utilizzo appunto dei crediti fiscali per questo bonus, la Guardia di Finanza ha scoperto questa società che richiedeva crediti di imposte inesistenti per oltre mezzo milione di euro, coinvolte tre persone che agivano in un contesto strutturato di illeciti relative all'emissione di fatture per operazioni mai eseguite. E su questo argomento torneremo in maniera più approfondita durante i telegiornali della sera. Andiamo adesso ai dati relativi alla violenza di genere, i dati forniti dal Codice Rosa che parlano purtroppo di casi ancora in aumento. Numeri drammatici sulla violenza contro le donne nel 2023 in provincia di Lucca sono oltre 230 i maltrattamenti, di cui 27 su minorenni, 5 le violenze sessuali e un abuso verso minori. I dati del Codice Rosa di quest'anno che evidenzano una crescita di casi sono stati presentati a Palazzo Ducale dalla Presidente della Commissione Pari Opportunità, Piera Banti, dal Vice Presidente della provincia Nicola Conti e da Maria Teresa Leone, delegata dell'ente di Palazzo Ducale per le tematiche legate ai fenomeni di violenza. I numeri sono in linea con quelli nazionali. Il dato più significativo però è che scorrendo la classifica dei paesi censiti, l'Italia risulta sul podio per episodi di discriminazione verso le donne. Si posiziona solo dopo Uganda e Kenya. Un dato che ben rappresenta la situazione di disparità in cui viviamo, è il commento della dottoressa Piera Banti. La presentazione dei dati è stata occasione per lanciare le iniziative del 25 novembre. Sabato la Commissione Pari Opportunità della provincia distribuirà 160.000 sottobicchieri con i numeri antiviolenza e stalking e quelli del Codice Rosa ASL ai comuni della provincia. Secondo i numeri registrati dall'azienda sanitaria, l'idea lanciata lo scorso anno aveva portato ad una sostanziale crescita di denunce ai centri antiviolenza. E sentiamolo proprio il commento della Presidente della Commissione Pari Opportunità, Piera Banti. Nell'ultimo anno i casi non sono aumentati, ma sono aumentate le denunce, soprattutto nelle fasce d'età che sono comprese tra i 18 e i 29 anni. Quindi interessano le giovani donne, ma soprattutto le donne che hanno un'età compresa tra i 60 e fino ad arrivare a 90 e più anni. Addirittura le donne anziane vengono a rappresentare circa il 9% degli accessi ai nostri pronto soccorso. Come mai, dottoressa? Perché spesso sono donne che hanno subito violenza, hanno visto subito violenza fin da bambine, poi con i mariti e adesso subiscono violenza addirittura con coloro che dovrebbero prendersi cura di loro. Sono donne spesso anziane con problematiche di natura cognitiva, pensiamo alle demenze, pensiamo all'Alzheimer. Sono donne che spesso dipendono dai loro aguzzini. Chi sono i loro aguzzini? Possono essere persone che si curano di loro, così come persone che sono molto vicine a loro, che fanno parte del nucleo familiare. Anche figli? Anche figli. Infatti, se andiamo a vedere gli ultimi rapporti della violenza di genere in Toscana e andiamo a vedere i femminicidi che si sono verificati in Toscana, circa un terzo di questi femminicidi sono proprio a carico di donne con età superiore ai 60 anni. E purtroppo l'aggressore è proprio rappresentato da una persona molto vicina alla donna, come ad esempio un figlio. La spiegazione che mi do è perché, verosimilmente, queste donne sono vissute in contesti familiari violenti, perché la violenza è intergenerazionale, si tramanda. E sempre sull'argomento violenza di genere c'è stato un incontro tra gli studenti di massa e la criminologa Bruzzone. Grande partecipazione al Teatro Guglielmi per l'incontro Un Cuore Senza Ferite, di cui è stata ospite la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone. L'evento, il primo tra quelli organizzati dal Comune di Massa in avvicinamento al 25 novembre, giornata contro la violenza di genere, ha visto la presenza dei ragazzi delle scuole superiori di secondo grado della città, che hanno potuto dialogare con la dottoressa Bruzzone, affrontando temi molto attuali. Particolare attenzione è incentrata sull'utilizzo sbagliato dei social media, utilizzati spesso come strumento di controllo del proprio partner. Un campanello d'allarme che evidenzia una problematica spesso sottovalutata. Io credo che bisogna parlare con i ragazzi in modo molto diretto su questi temi, insomma. Oggi il focus sarà legato in primis ai social media, perché questo è un po' quello che è l'obiettivo della giornata, ma cercherò comunque di lanciare alcuni importanti messaggi per quanto riguarda anche la qualità delle relazioni che i nostri ragazzi stanno vivendo. È evidente che qualcosa non va ed è un problema generazionale, quindi bisogna cominciare ad affrontarlo in maniera un po' più concreta. E' più importante partire dai ragazzi o dai genitori? Bisognerebbe partire da entrambi. Diciamo che la problematica genitoriale probabilmente è un po'... Se dobbiamo individuare una genesi di quello che stiamo vivendo probabilmente le problematiche genitoriali sono un punto di partenza. Il problema grosso è che i ragazzi in qualche modo riusciamo a raggiungerli, i genitori no. Presente all'incontro coordinato dall'assessore alle pari opportunità Monica Bertonieri, anche la psicologa Sara Moisè. La giornata è stata accompagnata da musiche e letture curate dalle scuole partecipanti. Il ciclo di incontri proseguirà con uno spettacolo per ragazzi prodotto da Teatro Due Mondi, la presentazione di un libro di Sabrina Pasta sull'influenza delle aspettative sociali sulla psiche femminile, che si terrà alla biblioteca civica, e un incontro con gli attori della Compagnia del Teatro di Napoli su Plitennestra, Carnefice e Vittima. Cambiamo totalmente argomento, occupiamoci di turismo, perché è stata pubblicata la nota congiunturale dell'IRPET sui dati della stagione 2023. È un po' a sorpresa rispetto a quanto è dichiarato nei mesi scorsi. La Versilia chiude con un più 2,9% su base annua e un più 3,2% su quella biennale. Sorpresa, dopo un'estate in cui si sono rincorsi continuamente dati e statistiche che registravano cali di presenze turistiche in Versilia intorno al 15-20%, e in cui addirittura ad agosto Federe Alberghi aveva ammesso di aver fatto delle previsioni troppo ottimistiche per la stagione, sperando in un recupero con gli arrivi di settembre, ecco che viene pubblicata la nota congiunturale dell'IRPET, che, un po' come il voto di Alessandro Borghese, ribalta tutte le precedenti considerazioni. Il documento stilato dall'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana fotografa infatti numeri nettamente diversi da quanto ipotizzato finora, e sebbene si sia registrato un calo delle presenze di turisti italiani e toscani, a far salire l'asticella oltre il segno più sono state le presenze di stranieri, in particolare di turisti extraeuropei, e a far registrare aumenti che arrivano a sfiorare il 300% rispetto alle stagioni pre-pandemia sono i turisti orientali, Corea e Giappone in primis. Tutto questo al netto dei dati di settembre, che sicuramente confermeranno questo trend. Importante però in questo quadro generale lavorare per far tornare il turismo interno, come confermato dall'assessore regionale Leonardo Marras. Noi dobbiamo pensare di riconquistarci gli italiani, che sono però in condizioni economiche più disagiate. Abbiamo visto anche da aprile in poi, quando hanno iniziato gli italiani a fare i conti con le proprie tasche, che hanno rallentato le prenotazioni, è cambiato e scelto consumi diversi anche per la vacanza. E quindi questo italiano che è più in difficoltà va affrontato magari in maniera più segmentata e poi dobbiamo spingere sempre di più per accogliere un turista straniero che sembra sempre più disponibile a venire in Toscana. Laddove lo hanno capito, per esempio in Versilia, già da tempo, questo è sicuramente più facile. Laddove invece ancora questo non è stato ben compreso, dobbiamo lavorarci di più. Andiamo a Massarosa dove sembra essere risolta la questione relativa alla problematica dei ratti vicino alla scuola Pascoli di Piano di Conca. Intanto la sindaca annuncia anche che dopo la partenza e il ritardo di quest'anno del servizio Mensa è fiduciosa per quanto riguarda la stabilizzazione del servizio per i prossimi anni. Il messaggio è che non bisogna creare allarme, che la situazione è sotto controllo, che subito gli enti competenti, quindi scuola, ASL e comune, si sono attivati per una situazione chiaramente conosciuta dovuta al fatto che la scuola è comunque una scuola di campagna, quindi vicino a Campi e Fosse, ma che è giusto attivare tutte quelle azioni azioni che possono far sì che i topetti non entrino nell'edificio scolastico. La sindaca di Massarosa, Simona Barsotti, rassicura così le famiglie delle scuole elementari Pascoli di Piano di Conca sulla presenza diffusa di roditori. Non sarà necessaria la chiusura del plesso. Con la ASL è stato concordato un piano con nuove misure per tenere fuori i topi, che andrà di pari passo con altri tre interventi di deratizzazione all'interno della struttura. Altro fattore che consentirà di gestire meglio la presenza di cibo a scuola sarà il ritorno molto atteso del servizio Mensa. Da lunedì 27 novembre la rifezione sarà finalmente attiva in tutte le scuole comunali a più di due mesi dall'inizio dell'anno scolastico. Sicuramente la presenza di un gestore che segue le azioni che sono state date dall'ASL e che quindi monitora tutti i contenitori del recupero del cibo e che quindi monitora anche porte e finestre dell'edificio della scuola è sicuramente un segno positivo. Il 27 la rifezione scolastica inizierà. Questa settimana incontreremo i rappresentanti Mensa e il Consiglio d'Istituto proprio per coordinarci su questo. e da quest'anno per tre anni, ma mi auguro anche per sei, il primo giorno di scuola inizierà la Mensa scolastica. Chiudiamo con la tradizione, andiamo a Castelvecchio di Pasqua a vedere la preparazione dei biscotti della Befana. Un lavoro quasi da catena di montaggio, svolto però con amore e anche con grande maestria sapendo che in quel lavoro c'è una storia, una tradizione lunga generazione. In passata era una tradizione molto forte preparare i biscotti della Befana conosciuti anche con il nome di Befanini sia per il consumo familiare ma anche da condividere con gli ospiti ed anche da concedere in dono a coloro che la sera del 5 gennaio si avvicinavano al casolare per il canto di questo. Ma questi biscotti sono davvero speciali quanto unici fanno parte della tradizione della Befana di Barga anzi in questo caso di Castelvecchio Pascoli. Quello che mostriamo è un lavoro ben organizzato svolto dai bravissimi volontari della misericordia di Castelvecchio Pascoli e come potete vedere non sono dei semplici biscotti qui ci sono decorazioni ben studiate e arricchite con l'utilizzo di strumenti anche antichi. Tante persone che si adoperano per produrre un risultato straordinario sia dal punto di vista culinario che sociale. Tanta pazienza ci vuole, però queste donne ce l'hanno. Facciamo finta di essere a Veglia, una volta si andava nelle case a Veglia e qui siamo tutti insieme a Veglia. Questi biscotti verranno messi in vendita per scopi benefici. Noi le confezioniamo con la scatolina o con i sacchetti secondo come ce li richiedono e tutto il ricavato da questa vendita non si può dire perché è un'offerta che noi chiediamo in cambio poi la rinvestiamo per opere sociali. Le possiamo donare a famiglie bisognose, a casi particolari o del paese o di fuori. Comunque tutto è investito nel sociale. Bene, con questo si chiude la prima parte di Tg Giorno. Tra poco la pagina sportiva.